salve a tutti ragazzi benvenuti in questo nuovo video oggi vi porto sul canale è un piccolo drone ma davvero davvero divertente un drone adatto per bambini e non solo e ripeto non solo perché è un drone da ragazzi che fa divertire chiunque ed è la lowline questo marchio che di cui avevo già portato lui sul canale vi lascio qua sopra nelle schede la recensione perché è un drone davvero incredibile per come è assemblato e per come è costruito i primi materiali utilizzati lo costa meno di 50 euro ma un drone pazzesco qua sopra nelle schede se volete guardare il video della recensione ma oggi ragazzi invece parliamo di lui questo lowline 61 appena arrivato appunto da casa lowline questo marchio che mi ha chiesto andrea se ti inviamo un nuovo drone lo vuoi provare e nel caso lo recensisci se il drone è un drone che ritieni valido per i tuoi iscritti quindi visto che il drone è qua sicuramente l'ho ritenuto un drone valido e adatto ad essere portato qua sul mio canale ragazzi questo piccolo drone che pesa circa 63 grammi compreso di batterie nella confezione troviamo addirittura già tre batterie il prezzo si aggira intorno ai 70 euro vi lascio qua sotto il link in descrizione ed è venduto su amazon quindi ve lo consegnano in un giorno c'è tanta tanta roba con tutto quello che sono le garanzie di amazon è in più un prodotto davvero incredibile vi lascio anche il codice sconto se riesco ad ottenerlo sempre qua sotto e la differenza principale rispetto all'altro modello che ho portato qua sul canale che qua abbiamo una videocamera videocamera che ci permette di pilotare il drone con lo smartphone in modalità fpv sicuramente una cosa interessante per chi vuole utilizzare questo drone anche se secondo me è un drone che va utilizzato senza lo smartphone però è giusto che sappiate che potete fare video e foto utilizzando la sua applicazione che si chiama appunto l'all in è disponibile sia per ios che per android quindi ragazzi adesso guardiamo cosa c'è nella confezione e poi lo proviamo insieme perché è un dronino super divertente che consiglio è ovviamente a chi ha un bambino come regalo ma anche ad un adulto che vuole imparare a pilotare un drone per poi acquistare qualcosa di un po più impegnativo e questo ragazzi è sicuramente il drone ideale per fare tutto questo perché questo marchio lowline ci dà una qualità di materiale di costruzione che pochi altri danno in questa fascia di prezzo ed è una cosa sicuramente da non sottovalutare se lo regaliamo soprattutto ad un bambino quindi nella confezione troviamo ovviamente lui il lowline U61 drone davvero piccolo la telecamera è orientabile ovviamente prima di decollare con le mani qua abbiamo le batterie ne abbiamo tre nella confezione quindi tanto divertimento perché parliamo di 7 minuti a batteria quindi 21 minuti di divertimento ricaricabili qua tramite la presa micro usb quindi potete ricaricarle anche con un power bank con un alimentatore del vostro smartphone attaccandolo al pc cioè in tutti i modi che volete potete ricaricare queste batterie quindi avendone tre è un continuo utilizzare il drone praticamente il drone non ha un comparto tecnico incredibile ma è fatto benissimo qua abbiamo l'interruttore per accenderlo e spegnerlo poi abbiamo il radiocomando con il supporto per lo smartphone ovviamente che potete anche andare a rimuovere se non vi interessa basta sfilarlo o andare a infilarlo avete qua il supporto dello smartphone qua dovete andare a inserire quattro batterie stilo che non sono incluse nella confezione e poi nella confezione troviamo ovviamente poco altro manuale di avvio rapido è davvero semplice ma che vi spiega in maniera chiarissima cosa dovete fare per avviare il drone poi lo vediamo adesso insieme come cosa dovete fare ma è una cosa davvero semplice e poi cosa rimane da guardare nella confezione i cavetti per caricare le batterie potete utilizzare anche i cavetti che avete già le eliche di ricambio gli attrezzi per sostituire le eliche anche se le eliche essendo protette ovviamente è difficile andare a danneggiarle e poi abbiamo come vi ho detto le altre due batterie che va a sommarsi a quella che c'è già nel drone fanno tre batterie quindi adesso è arrivato il momento di fare la prima accensione di lui il lowline u61 allora per prima cosa andate ad accendere il controller con il tastino qua ok vedete che il led lampeggia andiamo ad accendere il drone perfetto vedete che anche qua il led lampeggia perché perché questi due dispositivi attualmente non si vedono uno con l'altro per far sì che i due dispositivi inizino a comunicare basta andare a tirare giù la levetta di sinistra perfetto vedete che i due led non lampeggia né più adesso i due dispositivi comunicano uno con l'altro la prima cosa che dobbiamo fare è calibrare il giroscopio per calibrare il giroscopio ragazzi è semplicissimo mettete il drone su una superficie piana è andata ad abbassare lo stick di destra nell'angolo in basso a destra quindi così e vedete che il led ha lampeggiato quindi il giroscopio adesso è calibrato a questo punto non ci resta che avviare i motori per avviare i motori è semplicissimo basta andare a inclinare i due stick verso l'interno in basso perfetto e vedete che il drone ha avviato i motori adesso possiamo decollare tirando lo stick in su o cliccando il tasto di decollo e atterraggio automatico per spegnerlo ragazzi se nel caso non vogliate decollare basta rifare la stessa procedura cioè gli stick in basso verso l'interno e il drone si spegne è una cosa che non vi ho fatto vedere che qua abbiamo i due tasti per scattare foto e video perché altrimenti lui non ha una memoria interna quindi foto e video non vengono salvati perché tutto questo viene fatto all'interno dello smartphone quindi se volete utilizzare lui in modalità fpv per fare video e foto anche se ovviamente non è il suo punto di forza dovete scaricare l'applicazione come vi ho detto lo lì disponibile per ios e per android l'applicazione è questa io vado ad aprirla perché l'ho già scaricata altrimenti voi dovete solo andare a scaricare ed è davvero semplice abbiamo start o foto e video quindi start ci farà entrare nella modalità di volo foto e video ci farà vedere tutte le foto e video che abbiamo registrato o scattato però la prima cosa che dobbiamo fare è entrare nelle impostazioni quindi andare a selezionare la rete wifi creata dal drone eccolo qua lowline 68 una volta che la rete wifi è attivata con lo smartphone andare a cliccare su start ed ecco qua che il drone sta inquadrando le sedie davanti a lui ovviamente non aspettatevi una qualità incredibile anche dal punto di vista dei lag sicuramente c'è un ritardo video ma è giusto per imparare a capire come funzionerebbe avere lo smartphone sopra al controllo per pirotare e vedere cosa inquadra il drone l'applicazione come vi ho detto è super semplice abbiamo la possibilità qua di fare video foto che possiamo attivare da qua o anche dal controller come vi ho detto direi che a questo punto però possiamo fare la prova di volo perché ragazzi il suo punto forte è il volo il comportamento il volo e l'utilizzo che si può fare quindi direi che è arrivato il momento di decollare siamo pronti per fissare lo smartphone nel suo supporto è semplicissimo basta aprire questa pinza e andare a inserire lo smartphone è davvero davvero geniale e semplice quindi andiamo ad attivare i motori perfetto e con il tasto qua dietro di decollo automatico andiamo a decollare guardate qua ovviamente la qualità video ragazzi non pensate a niente di incredibile anzi come vi ho detto è un drone più da utilizzare come drone senza lo smartphone però nel caso vogliate utilizzarlo con lo smartphone c'è anche questa possibilità di avere il ritorno video anche se ovviamente come vi ho detto è quello che ovviamente per pilotarlo all'esterno non ci deve essere un filo d'aria perché essendo un drone piccolo con motori non potentissimi all'esterno ci deve essere poca aria anzi se zero aria è meglio però è davvero divertente in casa è ancora più divertente perché comunque non c'è aria e poi con queste protezioni un bambino ma ripeto anche un adulto si diverte davvero davvero tanto cioè guardate o perché comunque questi dronini che hanno un comparto tecnico veramente limitato quindi come in questo caso solo il giroscopio vi danno comunque la possibilità di imparare a pilotare i droni in maniera più concreta secondo me rispetto a quelli che magari sempre droni piccoli però che hanno il gps che hanno l'optical flow quindi droni che hanno una stabilità di overing e diciamo molto più facile da controllare però per chi deve imparare secondo me questo è l'ideale perché comunque è vero il drone non sta fermo in overing ovviamente in maniera come vi ho detto immobile vedete si muove perché comunque non ha niente che lo tenga fermo in maniera perfetta quindi questo per forza è una cosa che lui ha perché lui è un drone che va continuamente pilotato non dovete fermarvi si potete fermare vedete come io un attimo ma lui poi si muove non sta fermo e questa è una cosa ragazzi che però serve ad imparare a pilotare i droni ve lo stra assicuro tanto ragazzi non rischiate niente perché il drone pesa 60 grammi è pieno di protezioni se io adesso provo andare a sbattere contro la persiana guardate anzi ho mancato anche la persiana cioè vedete non è successo niente lui lo riprendete e riparte ovviamente all'esterno dovete stare attenti che non vi vada a finire chissà dove però in casa per esempio non rischiate assolutamente niente cioè vedete io vado qua pam cos'è successo niente lui è ancora super operativo come prima e poi una cosa interessante che ha questo drone che altri droni ovviamente di questa categoria di prezzo non hanno è l'avviso nel caso per il segnale perché usando l'aleo esterno questi droni che comunque non hanno un gran range di controllo a un certo punto perdono il controllo e se ne vanno per i fatti loro lui con un avviso acustico vi avvisa che sta perdendo il segnale quindi vi dà la possibilità di riavvicinare il drone a voi ed è una cosa da non sottovalutare se lo utilizzate all'esterno ovviamente in casa tutto questo problema non c'è però ragazzi è fantastico guardate guardate che roba o la è fantastico io ve lo straconsiglio e con un drone così ragazzi imparate veramente a pilotare un drone atterraggio eccolo qua atterraggio perfetto cosa dire ragazzi è un drone incredibile è un drone che merita per lo straconsiglio per i bambini assolutamente ma ve lo straconsiglio anche per un adulto che vuole approcciarsi al mondo dei droni prima di affrontare prima di acquistare di qualcosa di un po più impegnativo acquista un drone di questo tipo sa cosa spende ma impara a pilotare i droni dopodiché può passare sicuramente qualcosa di più qualcosa in più è sicuramente più impegnativo dal lato economico ma meno impegnativo dal punto di vista dell'utilizzo perché è più stabile di questo sta fermo in hovering qui però impara le basi e impara a pilotare il drone in maniera vera cioè che il drone va pilotato con gli stick controllato perché i droni che ovviamente fanno tutto da soli questo non ce lo insegna non ci danno l'opportunità di impararlo e ripeto non è una cosa da sottovalutare quindi ragazzi questo lolin u61 è approvato da un nerd e mezzo assolutamente si approvato da un nerd e mezzo un drone per imparare a pilotare i droni e questo ragazzi è incredibile e soprattutto è un drone sicuro fatto con materiali sicuri un drone davvero per tutti quindi ragazzi se questo video vi è stato utile vi è piaciuto lasciatemi un grosso pollice su seguitemi su instagram ho portato tante novità ante prime spoiler stampe 3d tante cose arrivano lì sempre se vi va iscrivetevi al mio canale te abbiamo offerte per sottolinea questo canale ma soprattutto ragazzi iscrivetevi a questo canale youtube per non perdervi anche un video un volo una recensione un test un tutorial una novità ciao